Lavoravamo insieme, facevamo volantinaggio da un'agenzia 11 anni fa, ci siamo avvicinati tipo come amici, quindi senza nessuna intenzione e poi dopo nel gioco una mattina dammi un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio sulla guancia, proprio così. Mentre lei si è avvicinata per darmi un bacio sulla guancia, io avevo girato la faccia e l'ho baciata. Non pensavamo di arrivare a questo punto, a questo giorno, sinceramente non avremmo mai pensato, però qui stanno sempre insieme, ogni giorno ci siamo legati sempre di più. Grazie per la visione! E non si può parlare di Ketty così, cioè Ketty e Ketty. È la ragazza che avevo sempre sognato, proprio a tutto di quello di cui avevo sognato di una ragazza, a tutto, cioè la dolcezza, il carisma, tutto, a tutto. Io senza di lui proprio non riesco a pensare di starci senza di lui, proprio mi cambia proprio la giornata, anche solo una parola sua mi fa tornare il sorriso se magari c'è un momento un po' così. Ketty c'è in attanti, è buono, è romantico, è spiritoso e pensa sempre a me per prima. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie.